Solo uno di noi ne uscirà vivo, quindi godiamoci un po' la tempesta. Ah, la musica della natura. I morti stanno uccidendo la nostra gente in questo istante. Qualcuno morirà, certo. Ma è così che va la natura. È una dura prova. Divora i deboli e rafforza i forti. E chi sopravvive salverà questa terra dagli inferi. Hai abboccato le bucie del demone. No, no. È una mia scelta. Lilith mi ha solo concesso il potere per fare ciò che va fatto. E tu cosa le hai dato? In natura ogni cosa va guadagnata, persino la conoscenza. Dimostra quanto vali e avrai le tue risposte. L'Ikord! Rendon! L'Ikord! Rendon! Come on! 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 RENDOR! Sì, come on! 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 Perché? Sì, come on! 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 Come on!